La ditta incaricata di procedere alla realizzazione del Museo di Alarico è pronta ad abbattere gli ultimi quattro piani dell'ex Hotel Jolly. Dopo 45 giorni di attesa, la soprintendenza ha espresso parere positivo, consentendo alla provincia di concedere il nulla osta paesaggistico alla prosecuzione dell'opera. La decisione non convince la senatrice Margherita Corrado, determinata a verificare la regolarità dell'intero iter procedurale non solo in relazione al palazzo affacciato sulla confluenza del Busento con il Crati, ma anche ad altre opere pubbliche già completate o in fase di completamento come il ponte di Calatrave e il Planetario. Al vetriolo la replica di Mario Chiu, il sindaco a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova mappa tascabile del portale turistico della città, ha accusato l'esponente Pentastellata di voler bloccare il piano di opere pubbliche in fase di realizzazione. Se non fosse tragica la cosa sarebbe anche da ridere perché sono venuti a chiedere il nulla osta paesaggistico per il ponte di Calatrava, per il Planetario, che sono opere che risalgono a più di 20 anni fa, dicendo che sono illegittime e quindi vanno demolite. Insomma è veramente vergognoso, penso, questo tipo di atteggiamento. Questo è un atteggiamento che frena la crescita e lo sviluppo sostenibile in un territorio. E oggi questi signori utilizzano le strutture dello Stato, i ministeri, quello dei beni culturali, quello della giustizia, non per produrre cose positive ma per cercare di far fuori gli avversari. Salvatore Bruno per la CNews24